fa ma che te fa e fatto o fa 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 guarda quante semplicite qui è tutto diverso scoccio al piatto che sta dicendo vaffanculo mezzo sto piatto ma sto fa ti sto a fare i numeri balletto beh ma che è che faccio prima gli ho detto ho da piatti adesso quindi che c'è chi ha ragione così lei ma tutta questa pasta ripastata con doppio spaghetto rispaghettato tornato ritornatino che dieta è questa la dieta che mi fa i cazzo mie e dopo e gli altri andano a fare i cazzo e poi e poi la giappanculo oh no pure attenzione 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 arzughe che arzughe o no che arzughe no proprio completo ecco 50 grammi di pasta però non nevica perché c'è il tono dormimo 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 se tu dormire oh dormimo no andiamo sul lettino no ma sul lettino andiamo sul lettino andiamo sul lettino oh oh smettate rompi con gli occhi